Il dialogo nasce in una società armoniosa, in una società in crisi. Il dialogo si perde. Un paese è sano quando ci sono delle idee condivise. In questo momento non ci sono idee condivise, ci sono delle ottime idee, ma tutto è frammentato. Questo è il problema. Ma non solo in Italia, in tutta Europa, secondo me anche in tutto il mondo. Io penso che la scuola è il luogo dove si impara la democrazia. Perché in famiglia ci sono troppe emozioni che non aiutano a imparare la democrazia. Invece a scuola si è uguali.